Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà ancora pressione atmosferica relativamente alta sul Mediterraneo e sull'Italia. La coda di una perturbazione diretta verso i Balcani lambisce il nostro paese con qualche nuvole nell'Italia centrale ma senza grandi conseguenze. Vediamo infatti la nuvolosità a terra sul nostro paese. Come vedete un po' di nuvole passano sull'Italia centrale e poi è sempre presente parecchio umidità in pianura padana dove il cielo rimarrà piuttosto grigio ma nel complesso situazione abbastanza tranquilla. Come precipitazioni praticamente nulla di particolare da segnalare semmai qualche gocciolina di pioggia potrà interessare le zone interne dell'Alto Tireno ma davvero fenomeni isolati. Quindi in definitiva ci attendo un mercoledì ancora grigio in pianura padana per la presenza di foschie localmente anche dense fino ad arrivare alle coste adriatiche. Un po' di nuvole nel centro Italia ma diciamo senza grandi conseguenze nel resto dei paesi non mancheranno anche delle belle schienite come temperature valori che restano sopra la norma soprattutto al centro-sud e nelle zone montuose. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.